vediamo come poter modificare con un semplice movimento del mouse la posizione di una preferenza rispetto alle altre avevamo già inserito 8 preferenze mi sembra ecco tutte queste preferenze già inserite vediamo che per esempio voglio far diventare l'ottava preferenza la prima ci passo col mouse di sopra a questa altezza fino a che c'è questa croce e tenendo premuto il mouse posso vedete far salire la preferenza al primo posto o anche un posto intermedio al terzo facciamola salire addirittura in cima ecco l'ottava che diventa prima la rilascio e notate come adesso la preferenza numero 1 è diventata la numero 8 e le altre sono scalate secondo normale situazione se volessi modificare qualcosa di questa preferenza questa casella cliccandoci mi consente di fare la modifica per esempio se voglio una cattedra oraria oltre che sullo stesso comune sul diverso comune clicco qui e dunque mi verranno le cattedre chiaramente orarie anche su comuni diversi facendo salva noterete che la numero 1 avrà cattedra oraria lo stesso comune e su comune è anche diverso è del tutto ovvio che per ottenere una cattedra oraria così composta io debba inserire anche l'altro comune per cui vorrei diciamo avere l'incarico per esempio dovrei fare aggiungi e mettere il comune di villa san giovanni in modo da poter abbinare bagnare a calabra con villa san giovanni speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori un saluto a tutti quanti